Il Regno Unito Dice sì alla settimana lavorativa Di quattro giorni Anche voi? Ma non noi di sicuro La mia azienda no Sì Però io c'ho un'arma E sono pronto Anche se la mia arma è un car Allora l'importante è stare Sullo stesso piano Voi dove siete? Sul tetto? Sì Veniamo giù Eh mi hanno fatto Salvo Sul tetto? Sì 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 Porco zio sto cambiando Ce n'è un altro mi sa Compra sto io e vi Non ho i soldi Anche se tu? Non capisco se sento i vostri passi O se c'è gente Però vabbè andiamo a finire il contratto e ci compriamo il loadout Qua c'è il giubbotto se volete Non ce l'ho Ho anche la maschera Qua c'è un'altra Se venite ci compriamo il loadout Arrivo Ma attaggiatela su? Io sono allo shop Lo puoi comprare anche tu costa 7500 E poi ti do i soldi che servono No a me non mi stai finendo Ci stanno pushando Oh Oh Va bene prendiamo sta taglia del edificio a fianco Che niente Tieni Fabri Che soldi ti servono Tieni Ce l'ho ce l'ho Ho fatto Ho preso tutto Guarda Da lì a posto Occhio alle spalle Vabbè 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 Ma sono da noi? L'ho pingato Ah quindi dall'altra parte Io lo voglio perché pingo Boh Ah il self revive devo tornare Vabbè vabbè Stai sul tetto Sì Sì Mi fa qua graffolo Mi bravo In perfezio Va Natale E Di Rapporto Un tratto Un tratto Un tratto Un tratto Lo Un tratto Grazie a tutti. 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 Io non so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.